Bene, invito i presenti ad alzarsi perché la Costituzione, quando anche non la più bella del mondo e quindi riformabile, è il patrimonio della libertà del mondo. Io, Emanuele Andorelli, nato a Bustarsizio il 9 gennaio 1960, di fronte a voi, cari concittadini, ai consiglieri, agli assessori, a mio padre, ai miei familiari, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana e i suoi principi, giuro di servire con lealtà e fedeltà la città di Bustarsizio e di agire per il bene comune dei cittadini, secondo i principi di libertà, democrazia, responsabilità, efficienza, efficacia, con la diligenza, l'attenzione, la sensibilità del buon padre e di famiglia. Chiedo a tutti voi di sostenermi affinché questo avvenga ogni giorno, nell'ospicio di essere degno dell'incarico affidatovi e del passato, del presente e del futuro di questa meravigliosa città. Prego la Madonna dell'aiuto, protettrice della città, di vegliare su di noi, sulle nostre famiglie e soprattutto su chi si trova in situazioni di disagio e difficoltà. Grazie.